Buongiorno a tutti. Anche per l'anno accademico 2018-2019 la contribuzione studentesca viene definita in base al contributo onnicomprensivo unico, introdotto con la legge di stabilità nel 2017. Il contributo onnicomprensivo unico viene calcolato in base all'ISEE, all'impegno di studi scelto dallo studente, quindi tempo pieno o tempo parziale, e soprattutto sul merito, quindi i CFU conseguiti dagli studenti. Per beneficiare dell'esonero o della riduzione del contributo onnicomprensivo unico, devi quindi essere in possesso di un ISEE universitario oppure di un ISEE parificato, o vi ricordano le condizioni. L'ISEE universitario deve necessariamente ricarica la dicitura, si applica le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, a favore di, deve essere indicato il codice fiscale dello studente. Attenzione, dovrà essere indicato il codice fiscale di ogni studente facente parte il nucleo familiare indicato nell'ISEE, quindi se nel tuo nucleo familiare ci sono più studenti universitari, il tuo ISEE dovrà recare al termine della dicitura, se applica le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, il codice fiscale di tutti gli studenti facenti parte del nucleo familiare. Mentre l'ISEE universitario può essere richiesto sia presso un CAF, Centro di Assistenza Fiscale, che direttamente sul sito web dell'Inps, l'ISEE parificato potrà essere richiesto solo ed esclusivamente presso il CAF. Sia l'ISEE universitario che l'ISEE parificato devono essere richiesti entro la data del 31 ottobre 2018, oppure con l'aggravio di una indennità di mora di Eurocento, entro il termine ultimo del 20 novembre 2018. Nel caso in cui l'ISEE universitario oppure l'ISEE parificato non vengano richiesti entro il termine ultimo del 20 novembre 2018, non si ha diritto alla riduzione o l'esonero del contributo onnicomprensivo unico. In questo caso siete venuti a pagare l'importo massimo previsto. L'ISEE universitario sarà prelevato direttamente dall'Ateneo della banca dati presso l'Inps, non dovrà pertanto essere consegnato alla sezione diritto allo studio. L'ISEE parificato invece dovrà essere consegnato a cura dello studente alla sezione diritto allo studio di Vicolo Benevello 3 barra A a Torino, unitamente alla copia originale della documentazione necessaria al rilascio dello stesso. Il termine ultimo è sempre il 31 ottobre 2018, oppure con l'aggravio dell'indennità di mora di Eurocento potrà essere consegnato entro il termine ultimo del 20 novembre 2018. Una volta in possesso dell'ISEE, se vuoi sapere a quanto ammonta il contributo onnicomprensivo unico, puoi fare riferimento al simulatore presente alla pagina tasse del sito di Unito. La contribuzione studentesca è suddivisa in tre rate. La prima rata va versata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi ed è uguale per tutti i studenti, ammonta ad Euro 156, di cui 140 di tasse regionale e 16 Euro di bollo. La seconda e la terza rata rappresentano invece il contributo onnicomprensivo unico e devono essere pagate rispettivamente entro le ore 16 del 30 novembre 2018 ed entro le ore 16 del 5 aprile 2019. Esclusivamente per gli iscritti al primo anno delle lauree magistrali, che si iscrivono dopo il 30 novembre 2018, la scadenza della seconda rata slitta alle ore 16 del 15 gennaio 2019. La seconda rata costituisce il primo acconto del contributo onnicomprensivo unico, mentre la terza rata è il saldo del contributo onnicomprensivo unico. Il pagamento tardivo delle rate comporta l'applicazione di un'indenità dimora, nell'ordine di 50 Euro per i pagamenti effettuati entro 7 giorni della scadenza e 100 Euro per i pagamenti effettuati oltre 7 giorni. Da quest'anno potrai pagare non solo attraverso il bollettino MAV che trovi accedendo alla pagina tasse della tua mai unito, ma anche attraverso il circuito pago PA. Per qualsiasi informazione relativa alla contribuzione studentesca puoi fare riferimento alla sezione diritto allo studio, che si trova a Torino in vicolo Benevello 3 barra A. Rispondiamo telefonicamente tutte le mattine dalle 9 alle 12 al numero 011 670 9902. Puoi anche comunicare con noi attraverso il servizio di Service Desk dalla tua mai unito o accedendo alla pagina tasse del sito www.unito.it nella sezione Contatti Help Desk. Sempre dalla pagina dedicata al servizio di Help Desk troverete le FAQ relative alla sezione diritto allo studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti